Ciao, sono Andro, un nuovo passo, c'è una nuova passeggiata a Uldona. Vado prima ad andare a chiesa, vado prima ad andare a chiesa e poi vado a guardare la partita. E fanno un campetto nuovo, vado con gli amici miei, vado a Mattia e poi vado a giocare al pallone. No, 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 poi vado a vedere, mi ha detto, ah, vado a vedere. Chi non ha nascosto, Lucia e Giulia, ti metto qualcosa, se quelli vengono ti faccio vedere. E qua non ci sono. Non ci sono, no? Lucia e Giulia non ci sono, se tuoi dattini. Alla, non ci sono, non ci sono. E ora vado ad andare a chiesa. Ci vediamo? No. Non so dove sono. Ora vado a vedere se c'è qualcuno e poi vado a cercare da campo. Siamo al prossimo appuntamento. No, vabbè, continuiamo. Ci vediamo domani, ciao!